Ben tornati alla vostra intervista doppia Ciao, salve, arrivederci Cosa non ti è piaciuto della partita del Torino con la Fiorentina? Non mi è piaciuto il risultato e il modo in cui è maturato Prendi tre gol perché gli altri sono più forti e ci sta Riesci a rimontare questi tre gol perché gli altri hanno la testa in vacanza Sono convinti di aver già vinto e a quel punto lì cosa fai? Mancano dieci minuti a finire, dovresti passare il tempo per terra Dallacciarti le scarpe, rantolare, tirare palloni in tribuna Invece noi giochiamo come il Brasile di Pelé e veniamo infilati come dei polli Non mi è piaciuto l'approccio, una squadra non può approcciarsi a una gara così in quel modo Non mi è piaciuto lasciare un primo tempo completamente agli avversari Non mi sono piaciuti gli ultimi dieci minuti come sempre, è reiterata questa cosa Non mi è piaciuto il risultato, mi è piaciuto vedere, io l'ho vista dalla tv La coreografia dei nostri tifosi fantastici e quello che è avvenuto prima Grazie a chi ha portato a Firenze il Torino degnamente Cosa invece salvi della gara dei Granata? Salvo diverse cose, cioè rimontare un 3 a 3 mi è piaciuto Devo dire che è una cosa straordinaria Io salverei lo spirito con cui si sono applicati malgrado i tre gol di scarto Chi è stato il migliore e il peggiore dei giocatori del Torino? Nel primo tempo oserei dire che il migliore è stato Gillet Perché magari malgrado i tre gol incassati ha fatto alcune belle parate Nel secondo tempo potremmo dividere la palma del migliore fra Bianchi e Cerci Perché Bianchi ha avuto un bell'impatto sulla partita quando è entrato E Cerci ha fatto un terzo gol da Cineteca Ha avuto diversi spunti, cosa che nel primo tempo non ha avuto Per me il peggiore è il Toro del primo tempo e il migliore è il Toro del secondo tempo Tranne gli ultimi 5 minuti L'unica cosa che non ho capito è perché io la scorsa settimana avevo chiesto a gran voce E non ho capito il motivo per cui non si è verificato Che Domenico Beccaria non era in panchina Beh in campo però ci sono andato Però poi non l'ho visto in panchina L'ho visto nel riscaldamento e poi in panchina non c'è andato Significa che le mie parole vanno sempre nel vuoto Nessuno le raccoglie Ti ha sorpreso la scelta di Ventura di schierare all'inizio Vives e Meggiorini E lasciare in panchina Basce Bianchi? Sì, mi ha sorpreso in negativo Ieri Vives e credo che anche l'allenatore a un certo punto Se lo sarebbe mangiato Ma lo mette lui in campo quindi è inutile che dopo sia l'arbi Non mi sorprende la presenza di Meggiorini e Vives in campo al posto di Bianchi e Bascia Mi sorprende la presenza in panchina di Ventura al posto di un allenatore Cioè Beccaria? Anche qualcun altro, ma un allenatore Fai la tua formazione per il derby? Ogbonna e Rodriguez laterali con Glick centrale Un bel centrocampo a quattro e davanti ci mettiamo Bianchi in mezzo con Santana e Cerci sulle ali Ogbonna terzino, Rodriguez, Glick ed Ambrosio Io la vedo così dietro davanti a Gillet Poi al centrocampo credo che Gazzi e Bascia E poi davanti Santana, Bianchi e Cerci Questa io penso sia la formazione sorpresa Che potrebbe schierare Domenico Beccaria Pensi che il Torino oggi sia più o meno forte di quello che nel girone d'andata fu sconfitto per 3-0 dalla Juventus? Credo che quella sconfitta fu immeritata Nel senso che fino all'espulsione di Glick Che va bene, per me poteva essere un cartellino giallo pesante A Giaccherini per simulazione E a Giaccherini per simulazione Il Torino stava facendo una gran partita E il pubblico stava fischiando la propria squadra E la mossa astuta era stata proprio di quella di mettere il meggiorino e tutto il campo su Pirlo Quindi io non ho paura di questa Juventus Ah no, assolutamente più forte Abbiamo Barreto, abbiamo tutta una serie di fenomeni Che finalmente sono arrivati per la felicità del mister E quindi siamo assolutamente più forti Giochiamo da in casa e mi aspetto molto di più Oh, ha fatto un bel gol Barreto Quale? Non ha toccato un pallone con me dopo Si ha trovato una palla lì davanti Eh beh, però ha fatto un bel gol Ha fatto il suo dovere Un piattone l'ha messo dentro Dai, per favore Allora, la prossima domenica Beccaria in campo a posto di Barreto Non più in panchina Il tuo pronostico per Torino e Juventus Non lo so, io non... Questa settimana non lo voglio fare Ce l'ho nel cuore, me lo tengo nel cuore Non me la sento Uno fisso, li facciamo neri L'ha detto lui Ma me l'importante è che non mi spacchino le vetrine Abbiamo finito, volete dirvi qualche cosa? Eh, ciao Meco Cioè io voglio approfittare In bocca al lupo e crepi la zebra Perché tutte le cose belle che ho visto e sentito Le telefonate e i messaggi che ho ricevuto Di questo gemellaggio Con ciò che è successo Come a Torino, a Firenze Ma ancora più amplificato E con uno stadio che cantava Toro, Toro, Toro E quegli striscioni Lui oggi non l'ha voluto dire Lo dico io per lui Grazie Grazie ai fratelli Viola Certo, grazie È una cosa fantastica Questo mi fa credere Che il Toro sia ancora importante Almeno per qualcuno Per molti Molti di più di quelli che crediamo Infatti